Presentiamo i prossimi ospiti Da ripatrianzone Tutto il carisma e la potenza vocale Di Lucio Ciabattoni Non vi sento No, no, no No, 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 no Non è la decada giusta E poi ma dopo, dopo Per un annetto Membri della rock band Sibilla Partecipano inoltre insieme a Zapp Al progetto omonimo Diamo il benvenuto a Rov e Jan Questo è perché è Johnny Mena Uno dei rappresentanti della scena musicale Salme Nedetese degli anni 90 Tornato recentemente nel circuito della musica live Un applauso per Maurizio Curto Il prossimo ospite non ha certo bisogno di presentazione Ma va ricordato che oltre ad essere uno dei personaggi chiari Della scena musicale San Benedettese E anche uno coorganizzatore dello Zapp Fest Un grandissimo applauso per Giacomo Più Web Antonini Giacomo ricordaci Giacomo ricordaci Atmosfera ragazze Il prossimo ospite Solo tra di noi Lloravi come incubi Ando in passo ormai Tutta la città Anzi struttogia Radio dischi e la tv Ci hanno detto di Non suonare più I occhiali Per resistere i occhiali Per difenderci i occhiali Per non cedere mai Buonissimo punto ci passa il palletto Buon camore Sopravvivere Buon camore Con la musica Buon camore Al silenzio che c'è Buon camore 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 No, 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 no No, 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 no It's gonna be right now Lick it up, 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 Lick it I'll be with you I'll be with you I'll be with you